La situazione in provincia di Bolzano è molto tesa, soprattutto sentiamo delle notizie inquietanti delle province vicine, soprattutto la provincia di Brescia, che attualmente è tempestata da pazienti con infezioni da Covid-19. Noi stiamo prendendo tutte le opportune misure, abbiamo un piano modulato per garantire l'assistenza a tutta la popolazione. La cosa più importante però in questo momento è cercare di ridurre l'impatto di questa infezione che viene veicolata dalle particelle emesse durante la parola, durante gli starnuti e i colpi di tosse. Un provvedimento semplice, oltre a lavarsi frequentemente le mani, quando si esce di casa e solo quando si esce di casa, è proteggere le vie respiratorie mettendo un filtro meccanico e questo riduce notevolmente la possibilità di infettare il prossimo. È una manovra che ci aiuta a proteggere i nostri cari e noi stessi.